Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei controlli nei confronti dei soggetti per settori dei bonus spesa Covid-19, ha scoperto che oltre 700 soggetti hanno ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ovvero di indigenza tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità, è emerso, infatti, che uno o più componenti dei nuclei familiari monitorati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo stipendio o una pensione, anche per cospicui importi, e percepito anche il reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate, oppure alterato il proprio stato di famiglia indicando soggetti fittizi o non residenti per incrementare la somma da percepire. Davvero tante le situazioni di rilievo, si va dai coniugi che hanno richiesto entrambi il bonus ma per lo stesso nucleo familiare, a soggetti che già percepivano l'assegno di mantenimento per separazione, a titolari di partita IVA e persino a congiunti di esponenti della criminalità organizzata. Nella maggior parte dei casi è emerso che i nuclei familiari monitorati hanno indicato un ISEE con un valore inferiore a quello previsto. Per approfondire questa notizia leggi l'articolo su vivicentro.it Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive. Grazie. Grazie.